L'inferno di Dante non è finzione. È profezia. E qual è l'ultima cosa che ricorda? Che è successo? Ho avuto un incidente. Non riesco a ricordare niente. È il trauma cranico. Immaginazione, ricordo, tutto si confonde. Era nella mia giacca. Apriamola. È l'inferno di Dante. È questo che continuo a vedere. Non so in che cosa sono coinvolto. Andiamo. Dov'è il professor Langdon? È fuori dal quadro. È in possesso della capsula? Ti ho lasciato un percorso. Ora solo tu puoi finirlo. Che cosa sarebbe una sfida? Un enigma concepito espressamente per lei. Ha creato una peste. Se esiste una peste, sai quanti governi la vorrebbero? E che farebbero per averla? Questa mappa è una pista perché io possa trovarla. Rimuovete Langdon. Andiamo, di qua. So perché mi trovo a Firenze. Ci sono nove luoghi. Questo è il primo. Guarda, guarda, è un indizio. Farò l'impossibile per trovarla. E se ti trovassero prima loro? Prendiamolo. Su, su! Metà della gente sulla Terra morirà. Abbiamo meno di otto ore. Possiamo ancora salvare il mondo. L'umanità è la malattia. Inferno è la cura. Come kto Xiediro? Vi. Che? E? Qui C'è. ci sono i spaffi. Ci sono i spazi.